Il Nordic Walking è un'attività fisica particolarmente efficace e completa ed è uno degli alleati del nostro benessere. 150 minuti a settimana, dicono gli esperti, aiutano a stare meglio, senza sforzarsi e senza strafare, ma facendo del sano movimento. Sono numerosissimi gli studi che indicano come a sedentarietà e sorappeso obesità corrispondano a più elevata possibilità di ammalarsi, mentre con un regolare esercizio fisico si riesce a tenere lontane diverse patologie o comunque alleviarne i sintomi, riducendo così in determinati casi l'assunzione di farmaci. L'argomento è stato sviluppato nel corso di un incontro che si è svolto nella sala affollatissima della Biblioteca Comunale di Baranello. Relatori, gli specialisti, Antimo Aiello, direttore dell'Unità di Diabetologia della ASREM e Loredana Messano, cardiologa della Fondazione Giovanni Paolo II. Il movimento insieme alle modifiche dell'alimentazione, quindi complessivamente quello che noi chiamiamo modifiche degli stili di vita, sono delle vere e proprie terapie, servono per prevenire moltissime malattie, tra cui il diabete, ma anche le malattie cardiovascolari, alcune forme di tumore, e serve anche quando queste malattie, soprattutto il diabete, le malattie cardiovascolari, l'ipertensione, si sono instaurate per migliorare il compenso anche riducendo l'assunzione di farmaci. Quindi sono delle terapie di fatto che ci aiutano a star meglio e fanno risparmiare il sistema sanitario nazionale. L'attività fisica si è vista in diversi studi scientifici che può ridurre addirittura il rischio sia di mortalità globale che di mortalità per malattie cardiovascolari e addirittura nelle malattie coronariche può ridurre il rischio di due volte in una persona predisposta. Ovviamente l'attività fisica può essere considerata come una terapia. La sedentarietà è uno dei fattori di rischio più importanti. L'inattività fisica in Italia, oltre che per le malattie cardiovascolari, è un grande fattore di rischio anche per le malattie croniche in generale. Per cui abbattere la sedentarietà deve diventare per noi medici una priorità da diffondere nei pazienti e anche nei soggetti sani. Il responsabile Axi Nortic Walking, Nicola Orisano, ha fornito i dettagli tecnici della disciplina. La parte pratica si esprime in vari concetti, che è il recupero della camminata naturale, nelle varie fasi, fino ad arrivare all'utilizzo dei bastoncini. L'utilizzo dei bastoncini è per andare ad attivare la forza e la coordinazione del soggetto. Farlo tre volte alla settimana, due volte alla settimana, per intorno ai 45-50 minuti, in tutti i luoghi. Si può fare in orari più impensabili, quando uno ha tempo, per cui non c'è più il lavoro, i figli, i nipoti. Ed è una disciplina ideale per tutti. Grazie. 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 Grazie.